Pace a tutti voi, fratelli e sorelle nel Signore, sono Giuseppe Piredda. Siccome il fratello Nicola Iannazzo qualche giorno fa ha scritto in maniera violenta e malvagia nei miei confronti, in tutti i modi per difendere il suo amico Butindaro, ha scritto contro di me, parlando contro la mia pubblicità del mio blog, a cui anche avevo già scritto un avviso, ecco, quello che state vedendo adesso è uno dei blog di Nicola Iannazzo, che presenta, sempre sulla parola di Dio, che presenta anche il suo blog, presenta delle pubblicità sconce. Vedete? Voi aprite queste pagine, voi troverete le pubblicità sconce, le stesse pubblicità che si trovano nel mio blog. Ora la domanda è, perché condannare le mie pubblicità e non sistemarsi le proprie? Cioè, quando tu fai qualcosa non devi condannarlo negli altri, se tu fai le stesse cose. Quindi questo è per farvi vedere quanto sia spirituale, quanto sia corretto e leale Nicola Iannazzo. Pace a tutti voi e che Dio vi benedica. Grazie. Grazie.